Oroscopo del giorno, martedì 14 gennaio 2020 Ariete Amore, oggi dovrete avere pazienza, soprattutto nella prima mattinata. Non sempre il partner riesce a capirvi e potreste andare incontro a spiacevoli discussioni. I single faranno bene a dosare meglio le parole e a misurare i giudizi verso gli altri. Lavoro, qualcuno cercherà di mettervi i bastoni tra le ruote, ma non ci riuscirà. Attenzione alle finanze. Toro, amore, la calma è la virtù dei forti e non a caso voi lo siete. Se vi sentite trascurati e abbandonati, non è con la gelosia che risolverete la vostra situazione. I cuori solitari dovranno avere tanta pazienza nel risolvere una questione che non può aspettare. Lavoro, sul lavoro alcune persone invidiose potrebbero parlare male di voi. Superate tutto con la vostra solita eleganza. Gemelli, amore, cercate di dialogare di più con il vostro partner. Cercate il suo cuore e aprite il vostro, ma evitate di fare troppe confidenze se ancora non vi filate del tutto. I single oggi avranno l'occasione di riallacciare i rapporti con una persona a cui tengono molto. Lavoro, la luna rispettosa e un senso di stanchezza potranno farvi fare passi falsi. Non prendete decisioni affrettate. Cancro, amore, oggi qualcuno cercherà di sviarvi e vi darà consigli non appropriati in amore. Siate prudenti, potrebbero esserci ripercussioni importanti e non a vostro favore. I single dovranno smetterla di rivangare ricordi e sofferenze. Datevi da fare. Lavoro, sul lavoro cercate la soluzione ottimale per creare un ambiente sereno con i colleghi. Giove appoggia ogni scelta. Leone, amore, le vostre emozioni oggi saranno particolarmente intense, soprattutto se state vivendo una relazione profonda e autentica. Ci saranno rapporti soddisfacenti con amici e familiari. I single saranno molto attraenti e avranno mille opportunità da sfruttare. Lavoro, buone prospettive per chi deve sostenere un esame o un colloquio. Oggi è una giornata molto positiva. Vergine, amore, l'amore sembra esservi vicino ma vi sfugge di mano. Dovreste essere più riflessivi e più critici nei vostri atteggiamenti e mostrarvi pronti a chiedere scusa a chi tenete. I single oggi saranno iperattivi e faranno tanti incontri anche importanti. Lavoro, è il momento di cambiare qualcosa nella vostra vita, soprattutto una situazione lavorativa che non vi soddisfa. Bilancia, amore, oggi familiari e amici saranno a vostra disposizione. La luna stimolerà la vostra vita sentimentale. Invista nuove possibili conquiste e innamoramenti. I single avranno a che fare con segreti e situazioni nascoste. In arrivo contatti con persone interessanti. Lavoro, piccole gelosie tra colleghi potranno turbare la giornata. State attenti a che non prendano il sopravvento sui rapporti di lavoro. Corpione, amore, chi è in coppia o ha superato una crisi potrà ricomporre un rapporto che si stava deteriorando a causa di incomprensioni o malintesi. Se siete soli oggi siete aperti ad ogni avventura. Potreste fare cose interessanti e vivere emozioni nuove. Lavoro, buone opportunità per chi sta meditando una nuova proposta di lavoro o l'inizio di una collaborazione. Sagittario, amore, oggi avete voglia di tenerezza e coccole. Attenti però se una persona non sembra volere sentire ragioni non è alzando la voce che vi farete ascoltare. I single dovranno avere pazienza e vedere gli sviluppi di una nuova conoscenza. Lavoro, oggi sarete animati da grande grinta e forza d'animo. Non mollate e riuscirete a portare avanti i progetti che volete realizzare da tempo. Capricorno, amore, se la vostra ultima storia d'amore è finita prematuramente probabilmente è anche colpa vostra. Forse non avete considerato che in amore si ama in due. I single oggi potrebbero invece sprecare ottime occasioni proprio riguardo la sfera sentimentale. Lavoro, buone occasioni per chi ha intenzioni di perseguire nuovi progetti e portare a termine quelli iniziati. Acquario, amore, sarete assaliti dalla nostalgia e dal desiderio di risentire qualcuno. Magari potreste approfittarne a meno che non siate già in coppia. In tal caso dovrete decidere cosa fare. I single dovranno pensare a divertirsi. È un periodo non proprio bello. Cercate di distrarvi. Lavoro, avete davvero le occasioni giuste per ribaltare un progetto che vi sta a cuore. Abbandonate la pigrizia e muovetevi. Pesci, amore, avete bisogno di distrarvi e di cercare nuove prospettive che vi allontanino dalla routine. Chi in cerca di amore e romanticismo troverà ciò che desidera. Se siete single e non disponete di grandi risorse potrebbe essere il momento di pensare ad un viaggio. Lavoro, molti pettegolezzi sul vostro conto potrebbero mettervi in cattiva luce nel lavoro. Prestate attenzione a chi li ha diffusi. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Grazie. 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 Grazie.